E' già caos nel Partito Democratico sulla vicenda primarie per la scelta del candidato sindaco al Comune di Napoli. Stamattina la notizia di una partecipazione di NCD appunto alle primarie di coalizione, poi smentita da Gioacchino Alfano. Il segretario del partito così commenta. E' evidente che un percorso politico che ha avuto ieri solo la sua prima manifestazione, un percorso che era stato delineato dal sottoscritto in sede di Assemblea Provinciale, in una relazione approvata all'unanimità dal partito, ma è altrettanto evidente che questo primo passo richiederà degli approfondimenti successivi per verificare se ci sono le condizioni per un percorso comune. Mai si è parlato di partecipazione di NCD apprimare del Partito Democratico. Sarebbe una contraddizione in termini per cui ritengo che molta parte delle polemiche scatenate in queste ultime ore sia frutto solo di atteggiamenti strumentali. Alcuni esponenti del partito, tra cui anche sia provinciale sia quello regionale, come Assunta D'Artaglione, insomma hanno messo un po' in discussione tutta questa procedura, lamentando il fatto che questa è stata una scelta non condivisa con tutti. No, non è così. L'ho spiegato. Del resto il comunicato del segretario regionale afferma un principio diverso, che è condivisibile. Vale a dire che questo processo, poiché NCD ha manifestato, Campania Popolare ha manifestato l'intenzione di dialogare a tutto campo su base regionale. Ecco il senso delle parole di Assunta D'Artaglione, che ovviamente fanno riferimento ad un ambito politico che travalica quello della sola provincia di Napoli. e su questo terreno, ovviamente, proseguirà il confronto per l'appunto di livello regionale. Ma ciò che ha affermato Assunta D'Artaglione non è in contraddizione col percorso fatto, tanto più che come Partito Democratico metropolitano di Napoli la discussione l'abbiamo affrontata nella sua sede propria, vale a dire nell'Assemblea provinciale. Il segretario di EGD, Marco Sarracino, sulla vicenda della decisione presa in Assemblea spiega «Posto che quella relazione l'avranno ascoltata massimo 10 persone delle 350 presenti, purtroppo trovandomi spesso in minoranza, quel giorno ero tra le 10 persone che hanno ascoltato, parola per parola, tutta l'introduzione ai lavori assembleari, senza riscontrare alcun passaggio in cui si annunciava e si metteva al voto un dispositivo che allargasse la coalizione a NCD». Grazie a tutti.